Allora, mo non voglio fare quello che dice, ve l'avevo detto perché il campionato è lungo e tocca ancora vederlo Però ve l'avevo detto che determinate squadre almeno in partenza avrebbero fatto fatica Magari anche la Roma domani, domani vedremo la Roma, magari anche la Roma Però da determinate squadre mi aspettavo questa fatica Da determinate squadre mi aspettavo che partissero in salita E quando l'ho detto, quando ho detto che ad esempio il Milan per me molto girava su quanto Fonseca sarebbe riuscito a tenersi il Milan prima di un eventuale esonero Molti mi hanno detto non capisci niente, Fonseca è migliorato, il Milan con Fonseca farà meglio di Pioli Io non so perché, non so per quale ragione i milanisti se siano alienati ad insultare Pioli a profusione Come se fosse un obbligo praticamente di insultare Pioli Quando sicuramente, lo dicevo già lo scorso anno, magari il ciclo Pioli poteva anche essere finito Ma un conto è definire finito il ciclo Pioli Ci può stare, è accettabile, è comprensibile, cambi qualcosa, va bene così Un conto è definire Pioli bollito e pensare che la soluzione dei problemi sia Fonseca Quando io ho visto che il Milan avrebbe preso Fonseca ho detto aspettate un attimo, ragioniamo un attimo Cerchiamo un attimo di riequilibrare la situazione perché io pensavo che il Milan sarebbe andato su Conte Sarebbe andato su Sarri, non su Fonseca E questa cosa un pochino già in principio mi aveva fatto storcere il naso Queste le voglio definire le fatiche di Fonseca Il Milan è forte, quindi in alto ci arriverà lo stesso Tocca capire se Fonseca sarà ancora la guida quando il Milan arriverà in alto Perché al di là di risultati e situazioni di gioco Io vedo anche molto poco Io vedo anche molto poco in generale Sì le occasioni se le crea È anche sfortunato Ma io, questa è la percezione che c'avevo anche con la Roma Cioè quando Fonseca allenava la Roma La mia percezione era sempre quella di un allenatore che era sfortunato Dai ma la Roma gioca bene La Roma giocava bene con Fonseca La Roma giocava bene Il problema è che però giocavi bene, giocavi bene, giocavi bene Ma gol non lo facevi mai O comunque ne prendevi tantissimi Era un terno all'otto Cioè allenare Cioè vedere la Roma di Fonseca era un po' come vedere una squadra che Poteva vincere in casa con Bologna Pareggiare in trasferta contro la Juve E perdere tranquillamente a Cagliari per dire Cioè era una cosa che poteva tranquillamente accadere E il Milan in questo momento è uguale Cioè il Milan che va a Parma può vincere Può pareggiare, può anche perdere Cioè è una squadra che è continuamente schiava del triplo risultato Poi oggi il Milan Forse i punti addirittura per le occasioni che si è creata Meritava qualcosa di più Probabilmente sì Però poi coi punti che cosa ci fai? I punti li segni a tennis I punti li segni a basket Nel calcio i punti non si segnano Se segnano i gol E qualcosa manca Poi di base in generale Adesso parliamo anche della partita in sede La partita nel dettaglio La squadra è stata costruita bene Però ha delle mancanze importanti A parte l'allenatore Nel senso che io non smetterò mai di dire Che dal momento in cui tu scegli il progetto Fonseca Ti vuoi male Quando io mi lamentavo della Roma di Fonseca La gente quando arrivato a Mourinho Era meglio Fonseca Era meglio Fonseca Poi i milanisti Era meglio Fonseca Ma Fonseca c'ha Votenete E ora vediamo quanto è meglio Fonseca De Mourinho De Bioli Di tutti gli altri Il problema di Fonseca A differenza di Mourinho Perché il problema di Mourinho È che faceva delle conferenze stupide E che delle volte la Roma perdeva delle partite Anche un po' per la rosa che aveva Però lui non aveva fatto performare Al di sopra delle proprie capacità Nessun calciatore Il problema di Fonseca È che faceva proprio delle cose stupide E ve ne accorgerete E poi domani magari faremo anche le pagelle Faceva delle cose stupide Cioè lui fa dei cambi Che delle volte non stanno Né in cielo né in terra Tu devi vincere una partita E lui magari Vabbè Oggi poi ha messo Fofanà Emerson Royal Forse poteva partire dall'inizio Non lo so Ciukwez per Pulisic Quanta offensività ti dà Cioè ci sono degli errori Che per me Fonseca fa puntualmente Continuamente E magari poi anche di questo Li sottolineeremo Magari domani nelle pagelle Che alla fine di un campionato Ti fanno perdere Veramente quasi Non dico Sì così Ma quasi una ventina di punti Cioè si avvicina molto A farti perdere Circa una ventina di punti Inoltre il Milan È una squadra costruita Con la mancanza di una punta Perché ha preso Morata Ma Morata non può giocare Tutte le partite Oggi aveva un problema fisico Quindi è partito dalla panchina Anzi proprio dalla tribuna Non ha proprio giocato per niente Ma che ci penso Morata E tu davanti avevi Okafor Te l'ha rimasto Okafor Te l'ha rimasto Jovic Quindi o decidi Di far giocare Con continuità Camarda Te lo porti in prima squadra Oppure davanti tu hai un buco Davanti tu hai un problema Perché Jovic può darti una mano Ma non può essere La tua prima riserva Perché se Morata E non glielo auguro Se fa una stagione Da panchina fissa A te te pesa come cosa Urca se ti pesa Sta minchia Perdonate il francese Se ti pesa Perché tu non hai una punta Oltre Morata Che ti può fare 15 gol in campionato Ed è un peso importante Qualcuno mi dirà Ma chi ce l'ha Quasi tutti Nel senso che io penso che Quest'anno Taremi Non farà 20 gol Ma se Lautaro ne gioca 0 E Taremi ne gioca 38 In campionato 15 gol li fa Per dire Se magari Vabbè sulla Juve È un po' più difficile Però penso che magari Ci siano degli spostamenti Che ti portano Da una punta Che comunque 10-15 gol Te li fa comunque Questa secondo me È una mancanza importante Del Milan Poi non parliamo Solamente del Milan Parliamo anche del Parma Che è una bella squadra Il Parma Che con Pecchia Sta giocando veramente Tanto tanto bene Oggi ha fatto una gran partita Certo Spesso votata Al contropiede Spesso votata Al gioco Di difese E di ripartenza Ma quando tu già Hai Dennisman E Miala Sulle due fasce Con Bonni davanti Con Bonni davanti Che è un giocatore Che va a 340 km orari Ma perché Devi privarti Della possibilità Di giocare Con il contropiede Contro il Milan È giusto E nel frattempo Tieni anche più di quanto Ti aspetteresti Perché Perché hai dei giocatori Di qualità Perché Dennisman È di qualità Perché Bonni è di qualità Perché Bernabè è di qualità Perché Steves è un signor Centrocampista Perché in porta C'è questo Suzuki Che vi posso dire A me piace Poi non parlo di oggi Poi lo vedremo Alla lunga Ma a me A me come giocatore Questo Suzuki piace E la partita Si indirizza subito Due minuti Valeri per Dennisman Vantaggio del Parma Vantaggio del Parma Importantissimo Perché in quel momento lì Il Parma Taglia le gambe Al Milan E quello è un momento Secondo me Un po' catartico Nella partita del Milan Milan che Parigia nel secondo tempo Grazie a Leao Io faccio un applauso enorme A Leao ragazzi Poi domani ripeto Ne parleremo Nelle pagelle Che usciranno domani Alle ore 10.30 10.30 Ogni giorno Alle ore 10.30 Un nuovo video su questo canale Ogni giorno alle ore 10.30 E domani alle 10.30 Usciranno le pagelle Di Parma Milan Dell'Inter Di stasera Di un sacco di partite Penso più che altro Del Milan E dell'Inter Ma ci ragionerò E vi dicevo E Leao lì fa tutto da solo Ragazzi Punta un uomo Fa una finta Lo manda culo a terra Scappa via Dal palone Gli viene ridato Con un movimento spaziale E rimette il palone Al centro per Pulisic Che fa gol Praticamente a porta vuota Lì Lì Tutto il gol Il gol lo fa Pulisic Ma il 90% Della rete realizzata dal Milan Del pareggio momentaneo del Milan È di Leao Che è un giocatore fortissimo Leao è un giocatore fortissimo E vi posso Di qua riprendere un po' Il discorso che vi facevo di Pioli Non serve Non serve Avere Gesù in panchina Pioli era perfettamente Quello che il Milan Serviva come equilibratore Quando io ho detto È giusto che Pioli Venga mandato via Se si decide Di fare Un progetto nuovo Se si decide per un nuovo capitolo E il nuovo capitolo Doveva essere Conte Doveva essere Sarri Doveva Eppure Conte Forse perché non l'hanno proprio cercato Ma non ho capito Perché va al Napoli Rispetto che al Milan E avrei visto molto più Conte al Milan E vi dirò di più A me piaceva molto più Garzia Che Fonseca Cioè quando Garzia Andò da Napoli Io ho detto Per me può far bene Poi ci sono stati dei problemi Per me può far bene Fonseca a me non piace E poi infatti Arriva il gol del 2-1 Con Alm Che vi siete dal parma Cancellieri Cancellieri che trasforma 2-1 Importantissimo Perché? Perché permette al Parma di vincere Il Milan inizia un pareggio E una sconfitta Un punto di due partite Contro Torino e Parma Un risultato Dal mio punto di vista Piuttosto grave Piuttosto grave Come è grave la sconfitta Della Lazio A Udine Poi può capitare Che accada Che succeda una cosa del genere Però è grave E qualche giorno fa Poi io ripeto Non sono qui per dirvi Ve l'avevo detto Però è quello è il concetto Cioè qualche giorno fa Quando ho parlato Di tutte le squadre E qualcuno mi ha criticato Perché mi ha detto Quando hai citato tutte le big Non hai citato la Lazio Ho detto ragazzi Perché per me la Lazio Quest'anno non è una big Cioè ha vinto con il Venezia In casa Ma perché il Venezia Sono tutti nuovi È rodato E le squadre È poco rodato C'è Di Francesco in panchina E poi comunque per me È una delle due o tre squadre Più scasse del campionato Giocavi in casa Ci mancherebbe altro Ma quando la Sticella Si alzerà un pochino La Lazio farà fatica E poi la Lazio Non è una squadra Che mi aspetto Che faccia 7-8 vittorie di fila E che prenda sprint Infatti va a Udine Perde Perde male Perché per me Questo è perdere male Perché rischia Anche di andare sotto 3-0 4-0 In alcune occasioni Si crea le sue occasioni Però a me mi è piaciuto più L'Udinese Che va avanti con Lucca Su un pallone bellissimo Di Tovenne Una staccata clamorosa Di Lucca di testa E che raddoppia poi Con il solito Tovenne Che tra l'altro È vero La scorsa L'aveva un po' impiccata L'Udinese Quando aveva Sbagliato il calcio di rigore Poi L'Udinese Aveva pareggiato poco dopo E invece stavolta Tovenne La decide da solo Contro la Lazio È una vittoria Comunque molto importante Per l'Udinese È una vittoria Che ridimensiona Un pochino la Lazio Anche se poi vi posso dire Ridimensiona Fino a un certo punto Io poi non so Cosa aspettarmi Da questa stagione Cioè io vi dico la mia E questo è quello che vedo Però comunque Io reputo Dal mio punto di vista La Lazio È una squadra Un po' così Quest'anno Cioè non ho grandi pretese Nei confronti della Lazio Anzi credo che La Lazio potrebbe arriva Decima Nona Ottava Poi magari per overperforma E gli facciamo un grosso applauso Però L'allenatore È bravo Ma non è Un allenatore Da top squadra La squadra Non l'hai rinforzata a dovere La difesa S'ha rimasti quei quattro Ovviamente hai preso giusto Il terzino A sinistra Davanti hai perso Immobile Hai preso Bula Yedì A centrocampo Hai perso Kamada Hai preso Dele Bashiru Hai perso Luiz Alberto E hai preso Chi ha preso Chi possiamo dire Che tu abbia preso Boh C'ha una Non lo so Hai perso Felipe Anderson Hai preso Noslin Hai preso A posto Luiz Alberto Forse Castrovilli La squadra è quello che è La squadra è quello che è E non si è rinforzata Secondo me Anzi si è indebolita Si è ridimensionata notevolmente Il che pesa veramente Veramente tanto Nel contesto di una squadra Che poteva fare Certamente di più E che invece È stata Non dico volutamente Però È stata indebolita In modo un po' Un po' sbagliato Secondo me Un po' sbagliato Poi c'ha dei giocatori Sicuramente interessanti Isaksen Che fa il 2-1 È molto interessante Uno che acquista Alcuni delle Bashiru A me Non dispiace Però mi sembra che la Lazio Nuoti un pochino Non dico tanto Ma un pochino Nella mediocrità In questa stagione E questa mediocrità Un pochino Per l'appunto Ti porta A dei risultati Altalenanti In negativo Altalenanti In negativo Che Alla lunga Secondo me Te porteranno Ben pochi risultati Poi magari sbaglio io Perché posso anche Permettermi di sbagliare io Però la vedremo Alla lunga E la vedremo durante Questa stagione Detto questo Io Il mio punto di vista Ve l'ho detto Fatemi sapere la vostra Con un commento qua sotto Mi raccomando Iscrivete Al canale Io vi ringrazio Tantissimi Mi piace Voce dall'alene Come sempre Ci vediamo Al prossimo video Al prossimo video Al prossimo video